Sì, sono Michele Carriera, segretario del circolo Celia Sanchez di San Giovanni Rotondo dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba. Da oltre 60 anni Cuba è vittima dell'imperialismo e di un criminale bloccheo ad opera dell'America del Nord. Noi sosteniamo la campagna Uno Tsunami contro il bloccheo a Cuba. Sostieni anche tu la nostra campagna Uno Tsunami contro il bloccheo a Cuba. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS